Non sono nessuno Non sono nessuno Per stabilizzare l'umore Come dice il dottore Per stabilizzare l'umore Come dice il dottore Per stabilizzare l'umore Non voglio più Un dolce contatto folle Per distruggere l'umore Un dolce contatto folle Per distruggere l'umore Ma l'anima esiste davvero O è solo una composizione chimica? Vai bene 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 come dice il dottore Un dolce contatto folle per distruggere l'amore 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 Grazie per la visione!